Due barzellette divertenti, anche se la prima utilizza un linguaggio un po' scurrile che non è certo rappresentante di questo canale. Comunque, eccole. Perché il cane si morde la coda? Perché gli sta sul culo? La maestra a scuola, si accorge che un ragazzino dell'ultima fila sta dormendo. Tu, là in fondo, ordina a Pierino, sveglia il tuo amico. E Pierino risponde. Eh no signora maestra, lei l'ha fatto addormentare, lei lo deve svegliare. Hahahaha